Avevano appena fatto in tempo ad arraffare il bottino 58 mila euro quando all'uscita della banca hanno trovato ad attenderli carabinieri e polizia. E' fallito così ieri pomeriggio il colpo all'agenzia Caripe di via Po a San Giovanni Teatino dove nel primo pomeriggio di ieri si sono vissuti attimi di terrore prima della felice conclusione dell'operazione delle forze dell'ordine. In manette sono finiti Marcello Mastroianni, 27 anni di Colle Corvino nel pescarese, Luca Cataldo 26 e Marco Tucci 27, entrambi pescaresi. Il colpo era stato preparato nei minimi particolari scegliendo l'orario di apertura pomeridiana quando non c'erano ancora clienti, utilizzando un'auto rubata e servendosi di una pistola con tappo rosso appositamente modificata. Ora i tre sono nella casa circondariale di Madonna del Freddo a disposizione del PM Giuseppe Falasca che andrà ad interrogarli nelle prossime ore. L'operazione di ieri ha visto poi mettere in pratica quell'importante sinergia fra le varie forze dell'ordine, visto che sul posto è arrivata anche un'auto della questura di Chieti e una del radiomobile della compagnia Carabinieri di Pescara oltre ai Carabinieri di Chieti.